Oltre 215 ospiti da 44 paesi e per le metà donne, 250 ore di programmazione e 112 incontri. Sono questi i numeri della dodicesima edizione del Festival di Internazionali in programma dal 5 al 7 ottobre a Ferrara. Informazione, attualità, economia, letterature e fumetti, immigrazione, xenofobia e conflitti dimenticati, il futuro dell'Europa. La richiesta di inclusione contro le spinte centrifughe che dilagano nel mondo. E poi le donne e il movimento femminista, come spiega Luisa Ciffolilli, che fa parte della direzione del Festival. È molto importante il focus sulle donne perché siamo partiti proprio quest'anno dal disegnare il logo del Festival come una mondina, cioè un mondo donna. Tra l'altro questo mondo donna balla insieme ad una sveglia. Ci siamo ispirati allo slogan Time's Up perché pensiamo che per una serie di problematiche il tempo oramai è scaduto, è arrivato il momento di agire, di cercare di farlo nella maniera migliore. Le femministe nell'ultimo periodo, ma diciamo da sempre, ci danno l'esempio di come è possibile combattere Unite. Per questo abbiamo deciso di dedicare proprio al tema del femminismo, alla nuova ondata di femminismo nel mondo, un incontro con varie femministe che arrivano da diverse parti del mondo, che è proprio il marchio internazionale, quello di dar voce a giornalisti, intellettuali e autori che provengono da tutto il mondo. Agire e reagire, parole d'ordine del Festival che discuterà anche di America Latina, il continente più volento del mondo, di Africa con un focus sulla Repubblica Democratica del Congo come occasione di sviluppo mancato, di Rohingya, Yemen, Siria e immigrati, grazie anche a Medici Senza Frontiere. E poi una novità spiegata dal direttore di internazionale Giovanni De Mauro. Mi piace segnalare in particolare questa performance, può essere chiamata così, di GP, illustratore, regista, autore di fumetti, che ha deciso di provare a leggere dall'inizio alla fine del Festival in nome degli oltre 30.000 persone che nel corso degli anni sono morte cercando di arrivare in Europa. È una lunghissima lista che pubblicheremo anche nel numero in edicola quella settimana di internazionale e che è un modo per provare a dare un nome, un cognome, un volto e un'identità precise alle tante persone che cercano di arrivare in Europa.